I citi dell'Italia Under 21 Gigi di Biagio ha diramato le convocazioni per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Ancora una volta tra i convocati ci sono i tre bianconeri Scuffet, Pezzella e Mandragora che giovedì 11 ottobre alle 18,30 giocheranno nel loro Friuli.Ecco l'elenco completo.Portieri Imel Audero Samdoria, Lorenzo Montipò Benevento, Simone Scuffet Udinese.Evirgola Difensori Cloda Giappon Sassuolo, Alessandro Bastoni Parma, Davide Calabria Milan, Sebastiano Luperto Napoli, Gianluca Mancini Atalanta, Luca Pellegrini Roma, Giuseppe Pezzella Udinese, Filippo Romagna Cagliari, Centrocampisti Gaetano Castrovilli Cremonese, Manuello Catelli Sassuolo, Rolando Mandragora Udinese, Alessandro Murgia Lazio, Matteo Pessina Atalanta, Luca Valsani Atalanta, Nicolo Zaniolo Roma.Evirgola Attaccanti Federico Bonezzoli Padova, Simone Edera Torino, Andrea Favilli Genua, Moise Chini Juventus, Riccardo Orsolini Bologna, Vittorio Parigini Torino, Luca Vido Perugia.Autore Moniche Tosi Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS